Buona serata, terza e ultima edizione del TG6 che apriamo con il nuovo esposto alla Procura della Repubblica da parte del Presidente della Commissione di Vigilanza Mauro Febbo che denuncia gravi omissioni e misteri circa la nomina del nuovo Direttore Amministrativo della ASL di Chieti Sabrina Di Pietro, tutti i particolari nel servizio di Francesca Romana Testi Si infittisce la trama degli episodi che hanno riguardato l'intervento del Presidente della Commissione di Vigilanza Mauro Febbo e l'ASL di Chieti passando per la nomina del Direttore Amministrativo dell'ASL Sabrina Di Pietro in mezzo a una serie di denunce disposti alla Procura della Repubblica per il mancato accesso alla documentazione caso per caso La storia nasce dal primo aprile quando chiedo la documentazione e le valutazioni alla direzione ASL di Chieti della nomina della dottoressa Di Pietro Dopo mi si risponde dicendo che la dottoressa ha i requisiti e a fronte di questa risposta presento un'interrogazione il 19 aprile al Presidente D'Alfonso all'assessore, all'assessorato, alla direzione regionale per dire guardate che non è così perché questa dottoressa ha già avuto un procedimento giudiziario e si riconosce in questo procedimento che non ha i requisiti perché quella struttura che lei attesta essere sanitaria non è sanitaria perché non ha l'accreditamento Si fa sempre più aspra ora la questione poiché annuncia Febo l'accesso a quegli atti avverrà con il coinvolgimento delle forze dell'ordine e dà appuntamento anche alla stampa per assistere Ricevo una letteraccia che oggi stesso ho già mandato alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti dove si dice che non ho diritto come consigliere regionale, tantomeno come Presidente della Commissione di Vigilanza a richiedere questi documenti e ho scritto al dottor Flacco che lunedì mattina, lunedì 4, alle ore 10.30 quindi se la stampa vuol venire ben invitati mi regerò con i carabinieri a prendermi questi documenti ma la cosa grave e l'assurdo è questo, che il pari legale c'è e non è richiesto dalla ALS ma è richiesta dalla persona incriminata quindi la ALS si fida ciecamente di questa persona e qui mi sorge un dubbio non è che la nomina di questa persona è strettamente collegata con il progetto di finanza della ALS del nuovo clinicizzato di Chieti visto e considerato che anche qui c'è una omissione di documentazione che viene segretata e non richiesta Cambiamo argomento, sempre più casi di contraffazione del Made in Italy un fenomeno che danneggia economia e consumatori la Camera di Commercio di Pescara organizza un convegno per riconoscere ed evitare tutti i prodotti soggetti a sofisticazioni e false certificazioni di provenienza Vediamo Cultura della legalità e la tutela dei prodotti alla Camera di Commercio si svolge un convegno che è diretto sia ai consumatori che ai produttori L'importanza è capire quanto sia necessario tutelare il prodotto Cosa c'è dietro? La Camera di Commercio di Pescara in questi mesi sta ponendo grande attenzione a questa materia la tutela della legalità con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari Si rivolge in questo momento alle scuole, agli studenti e alle imprese del territorio perché capisce che oggi in questo momento questa materia è particolarmente sentita anche dai nostri imprenditori non solo che si rivolgono al mercato interno ma anche che si rivolgono al mercato dell'export e quindi tutela della legalità, tutela dei prodotti vuol dire anche adottare sfide vincenti per le nostre imprese per superare meglio la crisi A cosa sono sottoposti? Quali sono i rischi per i prodotti? A cosa bisogna stare attenti? Sostanzialmente bisogna stare attenti alla contraffazione alimentare sul piano interno ad aziende poco serie che minano la credibilità delle nostre imprese sul territorio nazionale e sul tema l'export c'è un mondo di aziende spesso non italiane, alcune volte anche italiane che mettono in commercio dei prodotti che sono simili italiani e che sostanzialmente tolgono il mercato alle nostre imprese e verso di queste bisogna fare squadra, bisogna fare sistema tra pubblico e privato per evitare che queste imprese continuino a sottrare mercato, business alle nostre imprese sane Come possono riconoscere questi prodotti consumatori? C'è un modo per riuscire a capirlo? Diciamo che i profili in termini generali sono due saper leggere bene le etichette, sostanzialmente le etichette poste a retro dei prodotti questo principalmente sul territorio italiano Per quanto riguarda invece il territorio estero sono invece i brand, alcune volte brand cappello che in termini tecnico dicono look alike, cioè utilizzano tipo il parmesan per identificare il prodotto parmigiano quindi leggere le etichette, avere grande conoscenza della terminologia usata anche nelle etichette Qual è un termine comune che può dare sicurezza al consumatore? Il Made in Italy sicuramente, non soluzioni o terminologie diverse dal Made in Italy ma tutto ciò che rappresenta l'italianità 100% è sicuramente garanzia di qualità per il consumatore È stato rilevato un caso di tubercolosi tra i migranti ospitati a Roseto lungo la costa abruzzese La conferma aggiunge dalla direttrice della ASL di Teramo, Maria Mattucci nel sottolineare l'attenzione appunto della ASL su tutti gli ospiti del centro e su tutti coloro che sono entrati in contatto con il paziente che oggi risulta ammalato la direzione sanitaria assicura che per queste persone sono già in essere le procedure dei contatti stretti che prevedono controlli ravvicinati nel tempo Ad oggi tutte queste persone, conclude la Mattucci, sono negative ai test Cambiamo adesso argomento, ci sposiamo all'Aquila i sottosegretari della giustizia Gennaro Migliore e Federica Chiavaroli hanno visitato il carcere aquilano annunciando provvedimenti legislativi per ammorbidire il regime del 41 bis il cosiddetto carcere duro Appello della Chiavaroli per la nomina immediata di Rita Bernardini a garante dei detenuti abruzzesi Riportare il carcere duro, ovvero il regime del 41 bis alla sua vera e unica finalità ovvero impedire che reclusi particolarmente pericolosi abbiano contatti esterni con le loro organizzazioni criminali Il 41 bis non può essere però un'interruzione di quelli che sono i diritti fondamentali o addirittura uno strumento di tortura e vestazione Questo ha detto in sostanza il sottosegretario della giustizia Gennaro Migliore che assieme all'altro sottosegretario della giustizia l'abruzzese Federica Chiavaroli hanno visitato il supercarcere Le Costarelle dell'Aquila dove sono recluse 147 persone in regime di 41 bis di cui 7 donne, su un totale di 173 detenuti Tra di loro c'è anche Nadia Desdemona Lioci l'ex leader delle nuove Brigate Rosse e numerosi boss mafiosi Relativamente ai diritti dei detenuti si tratta di intervenire per comprendere realmente quale sia la finalità del 41 bis Il 41 bis è stato uno strumento introdotto per realizzare la piena interruzione dei contatti tra le persone che avevano particolare rilevanza all'interno delle organizzazioni criminali e la loro organizzazione, i capi Per questo motivo riteniamo che l'interruzione con l'organizzazione non debba essere un'interruzione con quelli che sono i diritti fondamentali della persona Uno dei problemi che affiggia anche il supercarcere dell'Aquila è quello della carenza di personale ma rassicurazioni in tal senso arrivano da Chiavaroli che poi invita il Consiglio regionale ad eleggere finalmente il garante dei detenuti convergendo sul nome di Rita Bernardini Io ho sollecitato più volte un intervento della regione Abruzzo su questo tema io credo che questo non possa essere derubricato a tema politico perché è un tema istituzionale mi auguro che il Consiglio regionale dell'Abruzzo sia maturo e faccia questa scelta peraltro la persona che è stata indicata e cioè Rita Bernardini credo che sia una delle migliori figure che c'è nel panorama italiano quindi io mi auguro che il Consiglio regionale dia una risposta adeguata su questo tema Cambiamo argomento adesso la Commissione Politiche Agricole ha approvato il riparto delle risorse complessivamente assegnate alle regioni distribuendo all'Abruzzo una disponibilità di 18 milioni di euro di contributo al comparto della pesca Vediamo dal Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca 18 milioni per la regione Abruzzo dal finanziamento previsto per la programmazione 2014-2020 infatti ci sarà un aumento delle risorse del 29% rispetto al passato Ieri abbiamo approvato in giunto il nuovo riparto del fondo relativo alla pesca 14-20 18 milioni di euro a disposizione di tutto il comparto nei prossimi sei anni rispetto alla programmazione precedente del 2007-2013 abbiamo strappato 4 milioni di euro in più per il comparto che tanto ne ha bisogno anche sull'agricoltura ci sono stati dei fondi importanti Sulla agricoltura abbiamo già iniziato la fase dei bandi dall'inizio dell'anno abbiamo pubblicato 8 bandi della nuova programmazione comunitaria 14-20 tanti bandi riguardanti le aree interne in particolar modo la zootecnia Ultimo passaggio oggi per la fusione tra BCC di Castiglione, Messerraimondo e Pianella con la banca di Teramo di credito cooperativo con le firme del presidente della BCC di Castiglione Alfredo Savini e del presidente uscente della BCC di Teramo Cristiano Artoni nasce un'unica banca cooperativa con più di 35 mila clienti e 145 dipendenti efficacia legale della fusione da domani, primo luglio la BCC di Castiglione e Pianella intervenendo nel salvataggio dell'istituto Teramano è diventata la prima banca di credito cooperativo d'Abruzzo sia per la raccolta diretta superiore a 640 milioni sia per gli impieghi pari a 520 milioni una realtà che può ora contare su una rete di 22 sportelli in un territorio che si estende in due regioni e abbraccia 62 comuni andiamo a Teramo adesso il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Berardini interviene sulla decisione dell'amministrazione Bruc di trasferire l'istituto musicale Braga all'interno del Parco della Scienza il Braga non può essere trasferito sostiene Berardini, lo ascoltiamo Oggi il Movimento 5 Stelle interviene dopo la notizia che l'amministrazione comunale vorrebbe trasferire la sede del Braga al Parco della Scienza Cosa accade? Diciamo che non è assolutamente possibile trasferire il Braga al Parco della Scienza per due ordini di motivi il primo tecnico in quanto i locali sono assolutamente inidonei a ospitare una scuola di musica perché hanno assolutamente pochissime aule quando il Braga necessita di circa 20-30 aule e ha dei locali ampi con una acustica pessima il secondo motivo è di opportunità in quanto c'è già un progetto per quanto riguarda il Parco della Scienza che è stato elaborato dal COPE protocollato su cui il Comune non ancora si esprime quindi noi chiediamo innanzitutto che temporaneamente il Braga venga trasferito alla Molinari visto che non ci sono condizioni ostative e in secondo luogo che si inizia a parlare di questo bando da 500 milioni del governo italiano vogliamo capire cosa vuole fare l'amministrazione perché si potrebbe utilizzare o il progetto del COPE o un progetto che vada a riqualificare completamente il Parco della Scienza creando una vera cittadella della musica oppure si può prendere ad esempio la riqualificazione della CONA che è un quartiere abbandonato da tutto e da tutti da troppo tempo vogliamo chiarezza e chiediamo che l'assessore Misticoni e l'assessore dei lavori pubblici fra Cassa convochi in una commissione per parlare del merito di questi problemi spostiamo adesso a Lanciano il sindaco Mario Pupillo ha reso noto oggi le deleghe ai sette assessori che compongono la sua giunta BIS di cui fanno parte tre donne Pino Valente è stato confermato vice sindaco e avrà le deleghe ai lavori pubblici bilancio e finanze altri assessori uscenti Pasquale Sasso confermato all'urbanistica e risorse umane e poi c'è Dora Bendotti confermata alle politiche sociali e pari opportunità per quanto riguarda i nuovi entrati Francesca Caporale alla delega alla mobilità, commercio e agricoltura mentre Marusca Miscia a lei toccano cultura, turismo, partecipazione e trasparenza ma a proposito delle deleghe sentiamo proprio le impressioni del neo del primo cittadino rieletto della città Frentano I cittadini lancianissi hanno votato con grande maturità non hanno votato il centrodestra probabilmente il voto non era per il centrosinistra perché quel 15% in più non sono nostri elettori che non erano andati a votare la prima volta o solo erano in piccola parte ma una buona parte di questo 15% sicuramente ha fatto una scelta di fronte a due coalizioni di fronte a due sindaci e hanno voluto premiare il nostro lavoro di questi 5 anni e quindi hanno ribaltato un risultato che sembrava talmente scontato che ha anche demotivato il centrodestra perché sembrava una partita vinta questo significa che i cittadini lanciano non possono essere portati in giro che riescono a capire dove c'è un progetto chiaro e definito e questo ci ha premiato e noi siamo contenti ma ci dà una responsabilità di essere ovviamente e questo l'ho sempre ribadito di essere il sindaco di tutti ma di impegnarci e dire sempre ai cittadini quello che stiamo facendo con trasparenza e continuità perché su questo noi non siamo stati bravi a comunicare con la città Domenica 3 luglio a Silvi verrà inaugurata l'area destinata agli amici a quattro zampe un tratto di spiaggia destinato anche alle attività di pet therapy grazie all'associazione Unica Beach Comune di Silvi e Unica Beach si parla ovviamente dell'estate 2016 e allora quali sono le novità? La novità è che la nostra offerta sia per i nostri residenti che per i turisti si arricchisce di una nuova qualità che è quella di Unica Beach la spiaggia per gli amici a quattro zampe noi in verità avevamo già la spiaggia per i cani che era nata nel 2011 però non eravamo mai riusciti a trovare anche un'offerta così importante Chi parteciperà a questo progetto? Parteciperà all'associazione Unica Beach con la dottoressa Giussi che è già molto avanti come esperienza sotto questo punto di vista soprattutto per quanto riguarda la pet therapy che sta portando avanti un progetto pilota qua in Abruzzo Quali saranno gli stabilimenti che metteranno a disposizione l'apertura per gli amici a quattro zampe? Sul nostro territorio già sono tanti gli stabilimenti che danno questa possibilità la parte di spiaggia riservata all'Unica Beach si trova nella parte sud di Silville che una volta veniva quasi considerato una zona dormitoria oppure una zona poco raccomandabile e oggi sta diventando un fiore all'occhiello per la nostra città L'obiettivo è dimostrare che non solo gli animali non sono pericolosi ma addirittura sono utili sia per il benessere umano, per i bambini oltre che diversamente abili quindi la capacità di apportare del beneficio oltre che dimostrare ulteriormente che non rappresentano un rischio per la salute anzi gli aiutano le persone che hanno problemi di salute Nuova politica dei dazi per i produttori abruzzesi di liquori e birra oggi confronto in Camera di Commercio con il Direttore delle Dogane del Centro di Commercio Estero Novità in tema di dazi doganali per produttori di liquori e di birra abruzzesi in particolare se ne parla oggi in questo convegno in Camera di Commercio Direttore cosa è cambiato e quali sono le novità? Dal primo maggio è entrato in vigore il nuovo codice delle Dogane quindi oggi l'Agenzia delle Dogane col suo direttore di Pescara e con alcuni funzionari di tutto il comparto regione Lazio, Abruzzo e Molise ci illustreranno queste novità per i licorifici e i micro birrifici che sono circa una sessantina in Abruzzo Si tratta dunque di attività importanti anche renditizie e che vedono la nostra regione all'avanguardia Stiamo parlando di micro birrifici e stiamo parlando soprattutto anche di licorifici le novità di questo settore sono quelle che già in parte sono in essere una sempre più spinta informatizzazione che ci porta addirittura da ultimo ad aver implementato un ulteriore passaggio informatizzato circa l'assegnazione dei contrassini e comunque l'Agenzia in questo settore sta investendo fortemente nella formazione e nell'informazione degli imprenditori, dei piccoli imprenditori perché è un settore che veramente ci può dare tanto nel complesso di una micro ripresa che anche in Abruzzo si sente il settore agroalimentare, settore della piccola azienda, della piccola impresa questi settori sono quelli che stanno effettivamente crescendo di più Scatta da domani la due giorni della vetrina della città Valfino in programma nel centro storico di Castiglione Messer Raimondo Prende sempre più forma il progetto della città Valfino sei piccoli comuni, Castiglione Messer Raimondo, Arsita, Bisenti, Castilenti, Montefino ed Elice che però messi insieme possono avere maggiore forza per attrarre risorse e migliorare i servizi alla collettività Di questo si parlerà nella due giorni di domani e dopodomani denominata la vetrina della città Valfino in programma nel centro storico di Castiglione dove si svolgeranno dibattiti, workshop con gli interventi delle massime istituzioni regionali rappresentanti di parchi e riserve che interessano il territorio sindaci e docenti universitari A spingere per l'evento il consigliere regionale e facilitatore delle aree interne Luciano Monticelli Oggi noi riprendiamo un discorso importante innanzitutto sulla viabilità 8 milioni e mezzo sul masterplan non sono pochi e la cosa di più che abbiamo voluto è che tutta la committenza l'operazione della gara, della progettazione avvenisse in loco tant'è vero che in un comune Castilenti che nel caso è capofila ci sarà anche un ufficio da ricostruzione delle strade perché vogliamo modificare e cambiare totalmente l'approccio con la regione, con la provincia e dare più forza ai cittadini Il primo luglio e il due luglio noi daremo tutta una serie di indicazioni da temi ambientali ai temi soprattutto di quello che hanno hanno dei prodotti importanti ma se ragionati in funzione organica messi insieme hanno un valore da soli riescono poco a mettersi in competizione ecco tutto questo crea la città di Marfino che in futuro, da qui spero in qualche anno si raggrupperà a quelle altre tre città del Cerrano così da creare una contea del Cerrano Fino con altri Silvio e Pinedo 50.000 abitanti, più servizi, più forza politica anche nel dibattito generale quando si parla poi di chiudere questo o quell'altro servizio 50.000 abitanti fanno una forza su cui credo che la politica, i partiti, le soluzioni guardano con più attenzione E da domani sino al 3 luglio a Montorio Alvomano la quinta edizione di Weekend Arte un itinerario ricco all'insegna di spazi liberi, spettacoli, mostre, teatro e concerti Torna a Montorio la quinta edizione di Weekend Arte che è Kermess Montoriese dedicata alla creatività declinata in ogni sua espressione e quest'anno dedicata al tema l'identità Per la prima volta in cinque anni abbiamo cercato di dare un carattere vero e proprio a questa festa con questo tema abbiamo cercato di lasciarlo più aperto possibile in modo da dare agli artisti più spunti possibili in modo da farlo interpretare nella maniera più libera possibile Come ogni anno sarà una manifestazione eterogenea che vedrà musica, pittura, scultura sparsa per le vie del paese precisamente in via Urbani e in Largo dei Caduti e nei parcheggi dei giardinetti Tra le attrattive del contest? Tante performance artistiche, estemporanee e tanta musica all'interno del centro storico di Montorio Il tutto si svolgerà a Verdi sabato e domenica 1, 2 e 3 luglio La nuova piazza del paese di Senarica di Crognaleto sarà intitolata alla città di Venezia una piazza ristrutturata di recente con i fondi del progetto ministeriale 6.000 campanili Visto il gemellaggio con la città di Venezia e la bella iniziativa che ora è in atto con i ragazzi dell'Istituto di Popparozi di Teramo intitolerete una piazza proprio a Venezia Sì, sulla continuazione del progetto Venezia domani partono i 10 ragazzi che giustamente vanno a fare lo stage nella città di Venezia Noi sabato mattina inauguriamo a Senarica diciamo il lavoro dei 6.000 campanili quasi un milione di euro per la ristrutturazione dell'intero borgo la sistemazione della piazza centrale che vogliamo legare ancora alla storia di Venezia intitolando la piazza proprio alla città lagunare un momento importante ci sarà il sindaco, il presidente del consiglio insomma tutte le autorità veneziane insieme all'autorità della regione Abruzzo della provincia di Teramo e con la partecipazione del governo il sottosegretario migliore porterà il saluto di Matteo Renzi impossibilità di avvenire Adesso passiamo alla pagina sportiva partiamo ovviamente con il Pescara perché praticamente siamo addirittura d'arrivo per la trattativa che porterà Cristiano Biraghi in riva all'Adriatico per i prossimi 4 anni accordo raggiunto tra Inter e Pescara dunque Biraghi arriverà a rinforzare la rosa di Massimo Oddo contestualmente Gianluca Caprari sarà ceduto con un contratto quinquennale ai nero-azzurri di Roberto Mancini ma sarà lasciato in Abruzzo per la prossima stagione intanto in casa bianco-azzurra si aspetta l'erede di Gianluca Lapadula casatosi al Milan e l'ultima voce vorrebbe lo svincolato Pablo Daniel Osvaldo accostato proprio al Delfino momento caldissimo nel mercato del Pescara con diverse trattative prossime alla chiusura altre in rampa di lancio tra realtà e suggestione nella tarda serata di ieri è sbocato il nome dell'italo-argentino Pablo Daniel Osvaldo l'attaccante al momento svincolato dopo aver risolto il contratto con il Boca Junior lo scorso mese di maggio potrebbe dunque essere più di una suggestione giocatore di gran talento ma spesso discutibile sotto il profilo del comportamento Svaldo è un nome intrigante su cui la dirigenza bianca-azzurra ha incentrato le sue attenzioni dopo il rallentamento della trattativa che porta ad un altro argentino Matias Suarez con cui l'intesa è stata però raggiunta tuttavia resta una grande distanza tra il prezzo del cartellino fissato dall'Underlecht società in cui il magico è sotto contratto per un altro anno e l'offerta del Pescara di circa un milione di euro situazione in stand-by suo Svaldo però non c'è solo il Pescara perché proprio nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Palermo offrendo un biennale all'ex attaccante di Fiorentina e Roma il dopo la padula continua a restare al centro delle attenzioni del Pescara perché un altro nome sul taccuino del Delfino è quello dello spagnolo Boria González Bastón di proprietà dell'Atletico Madrid lo scorso anno 18 reti all'Eibar dove ha giocato in prestito l'attaccante è stato proposto all'entourage bianca-azzurro ma su di lui preme il West Bromwich in Premier League sempre sul fronte attaccanti non ha sortito effetti positivi l'incontro di ieri tra il DS in Pectre del Pescara Leone e l'Atalanta per Guido Marilungo e Gaetano Monachello agli orobici chiesto anche il difensore Emanuele Suagher ma il tecnico Gasperini lo vuole vedere all'opera in ritiro e per il momento dunque non se ne parla dopo il bel finale di stagione maglia bianca-azzura Cristian Pasquato firma il rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2018 ed è pronto a tornare al Pescara in prestito assecondando priorità e volontà del fantasista Padovano intanto nelle prossime ore si attendono le definizioni delle principali operazioni intavolate nei giorni scorsi dall'operazione Capriari-Biraghi con prestito di Puskas Omanai con l'Inter all'accordo con il difensore albanese Aieti Insomma avete sentito ci siamo oramai per l'affare Biraghi-Caprari in via di definizione a proposito adesso scendiamo in Lega Pro oggi era giorno di scadenze per quanto riguarda l'iscrizione delle formazioni che intendevano partecipare al prossimo campionato c'era un po' di incertezza in casa Virtus Lanciano bene sospiro di sollievo per i tifosi rossoneri perché la Virtus Lanciano comunica di aver provveduto al pagamento degli stipendi e degli emolumenti spettanti a calciatori e dipendenti e di aver sottoscritto la fideiussione bancaria ed aver consegnato oggi a Firenze la documentazione necessaria per permettere alla Virtus Lanciano di partecipare al prossimo campionato di Lega Pro iscrizione che dovrà essere ufficialmente garantita entro il 7 luglio termine entro il quale sarà necessario completare l'iter burocratico iniziato oggi con la produzione di ulteriore documentazione pur avendo adempiuto a quanto descritto i vertici rossoneri come dichiarato nell'ultima e recente conferenza stampa si riservano l'opportunità di valutare l'entità del loro impegno nel mondo del calcio e adesso passiamo al campionati minori ma con il Giulianova che riparte una nuova vita per il calcio giallorosso l'ex presidente della Folgore Veregra Luciano Bartolini è a capo della nuova società che ripartirà appunto dal campionato di promozione Massimiliano Fanesi sarà il nuovo direttore generale Vincenzino Angelone l'allenatore questa mattina presentazione in comune vediamo come mai ha deciso di venire a fare calcio ad investire a Giulianova una piazza comunque importante ma tutto è partito per scherzo tra amici ho degli amici qui a Roseto e quindi mi hanno chiesto se invece di continuare a fare calcio in una realtà dove gli spettatori erano una cinquantina a partita in 0-1 fosse insomma il caso per me di venire qui a Giulianova e poter fare calcio su una piazza più importante dove il calcio era il primo sport della città e insomma sentendo in città l'umore della gente ho capito che insomma c'erano i presupposti per poter far bene e per poter togliersi delle soddisfazioni perché quello che cerco io nel calcio di cui ho una passione insomma innata sono le soddisfazioni quindi quali soddisfazioni maggiori per un presidente di non farle in una piazza come Giulianova quello che io ci tengo a dire è che nel calcio purtroppo la matematica non esiste quindi bisognerà avere pazienza tutti e noi cercheremo comunque in tutti i modi di fare subito il salto di categoria quando con Luciano Bartolini che ringrazio abbiamo fatto i primi colloqui ho capito subito che da parte del presidente Luciano Bartolini c'era quella passione quella voglia quella umanità di ripartire anche da una categoria inferiore ma con quei presupposti con quegli ingredienti che possono ridare quello slancio alla passione per il calcio io ho anche detto e ho annunciato che lunedì ripartono i lavori al Castrum un impianto che per 40 anni è stato un campo di patate noi ci abbiamo investito un milione di euro oggi i lavori sono interrotti perché la ditta che se ne stava occupando si era resa in danza di impianti abbiamo risolto il contratto abbiamo riaffidato a tre ditte che si occuperanno di completarli quello è un impianto che sarà un gebellino in 90 giorni sarà completato è il Fadini che sarà affidato io mi auguro alla società non ho dubbi ma lo devo dire da sindaco perché c'è un avviso pubblico che ieri abbiamo fatto la delibera di giunta per l'affidamento della gestione del Fadini che purtroppo per inadempienza della vecchia società si sta rovinando come manto verboso ma anche in questo abbiamo già fatto un accordo che ci porterà a rilanciarlo è in corso in questi giorni a Teramo la Summer Cup un torneo estivo di calcio dedicato ai ragazzi del 2005-16 le squadre partecipanti alla manifestazione ideata e realizzata dalla Bonolis di Teramo le impressioni del presidente appunto della società Massimo D'Aprile vediamo parecchia partecipazione delle squadre del circondario e non solo per questa Summer Cup è un modo anche per far conoscere dei piccoli atleti anche a chi magari non ha la possibilità di conoscerli durante l'anno sì è un modo innanzitutto per valorizzare il territorio perché in ogni caso lo scopo principale è quello di valorizzare il territorio di Teramano oltre diciamo alle squadre di Teramo e provincia di Teramo in ogni caso abbiamo squadre della Costa squadre dell'Interno dell'Aquilano della Marsica del Pescarese quindi per un totale di 16 squadre vedo che i bambini si divertono quindi in ogni caso la cosa più importante è assolutamente questa il divertimento per la Bonolis diciamo che il torneo di chiusura che chiude la stagione ed è un torneo in ogni caso come ripeto sempre per far divertire i ragazzi perché in ogni caso lo scopo delle scuole calcio deve essere prettamente quello è un buon veicolo pubblicitario perché in ogni caso fare un evento del genere in piazza non è una cosa semplice comporta un grosso dispendio economico di energie in ogni caso perché l'impegno è notevole però come dicevo prima dove c'è gusto non c'è perdenza quindi va bene così siamo arrivati alla seconda edizione è giusto ringraziare i primi due sponsor Banca Mediolanum Medi ed il Fabi di costruzioni e quindi voglio dire da settembre cominceremo a programmare la terza edizione sempre con il massimo entusiasmo questo è per la categoria 2005 il livello è buono in ogni caso logicamente poi sono ancora ragazzi che hanno 11 anni quindi prima di parlare ci sono dei ragazzi con delle attitudini a me piace parlare in questo modo poi logicamente il tempo dirà cosa potranno fare anche perché nei ragazzi un anno fa tanto figuriamoci insomma i cinque anni che li distaccano da dei discorsi molto più importanti però qualcosina di buono c'è però in ogni caso c'è ancora tempo ci saranno ancora modi da parte loro per ulteriore crescita quindi il livello è molto molto alto a mio modo di vedere però in ogni caso le possibilità di crescita da parte dei ragazzi sono immense quindi diciamo che come primo step 2005 va bene ma auguro a tutti di crescere in un modo importante insomma e questo era il nostro ultimo servizio il TG6 torna domani puntuale alle 14 a me non resta che ringraziarvi e augurarvi una buonanotte a me non resta che Grazie.